Come si è consapevole dei limiti del clima culturale all'interno del quale ci troviamo? Dobbiamo cercare di dare il massimo e diventare tutti dei vincenti per realizzarsi, però poi alla fine è molto difficile cercare di uscire semplicemente dalla denuncia per cercare di posizionarsi in maniera diversa. Io penso che quello che andrebbe fatto fin da quando si è piccoli, quindi il primo messaggio che dovrebbe arrivare da parte dei genitori, da parte degli educatori, è quello dell'accettazione. Per quale motivo parlo di accettazione? Perché ho la sensazione che il nocciolo, cioè il problema che è alla base di tanti problemi, compreso poi i sintomi, i disturbi del comportamento alimentare, che sia l'anoressia, che sia la bulimia, è proprio quello dell'assenza di accettazione di sé per quello che si è. Abbiamo un problema di riconoscimento. Allora, certo, siamo in una società che chiede sempre di più di cercare di essere all'altezza delle aspettative altrui. Il problema però, per ognuno, quando viene al mondo, è esattamente il contrario. Nel momento in cui si nasce, e nessuno ci ha domandato di nascere, non si tratta di adeguarci alle aspettative altrui, ma si tratta in primo luogo di essere riconosciuti per quello che siamo. Con i nostri aspetti positivi e negativi, che abbiamo tutti, perché ognuno di noi ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, non si tratta di conformarsi a un modello, non si tratta di raggiungere determinati obiettivi, si tratta di avere una serie di strumenti che ci permettano di essere quello che siamo, con lati positivi e lati negativi, essendo stati riconosciuti, prima di tutto, dai nostri genitori. È un problema che al tempo stesso è ideologico, filosofico e patologico, direi, perché, come dice uno dei miei filosofi preferiti, Axel Onet, il problema del riconoscimento è proprio quello che ci permette di vivere. Ognuno di noi, per poter vivere senza ammalarsi, ha bisogno di essere riconosciuto e il riconoscimento passa in primo luogo attraverso l'amore. Essere amati per quello che si è e non tanto per quello che si fa, essere amati per come si è diversi rispetto alle aspettative e non per la capacità che si ha di conformarsi alle aspettative. Essere amati nonostante non si è esattamente come si sarebbe dovuti essere, perché cercare e far di tutto di essere esattamente come gli altri vorrebbero che noi fossimo, è proprio lì che è il problema da cui poi scaturiscono tutta una serie di problemi, compreso quello di cui stiamo parlando, cioè anoressia e bulimia. Il ruolo della filosofia per poterci aiutare a vivere è complicato e al tempo stesso secondo me molto importante. Allora per me, io posso naturalmente parlando a partire da me, quello che per me è stata la filosofia. All'inizio per me la filosofia era un modo di mettere in ordine il mondo, quindi contava nella misura in cui mi dava degli strumenti capaci di controllare il reale, quindi c'era anche una distorsione da parte mia per quanto riguarda la filosofia. Nel senso che è stato poi solo progressivamente col passare del tempo che mi sono resa conto, da un lato della necessità della filosofia, ma dall'altro lato della necessità di una filosofia diversa. La filosofia pian piano è diventata per me un pensiero incarnato, da questo punto di vista, prima parlavo di Axel Onet, c'è un altro personaggio chiave poi nella mia storia che è Anne Arendt, che tra l'altro ha rifiutato, ha sempre rifiutato l'etichetta di filosofa proprio perché per Anne Arendt è chiaro che la filosofia non può essere un pensiero sterile. La filosofia è importante nel momento in cui ci dà strumenti per pensare la nostra condizione e per poter pensare la nostra condizione, cioè la condizione umana, la filosofia deve partire da quello che Anne Arendt chiama l'evento. Allora, che cos'è l'evento per Anne Arendt? L'evento è tutto ciò che ci sconvolge, tutto ciò che ci attraversa, tutto ciò che ci rimette in discussione, tutto ciò che ci obbliga a ripensare, a ripensare noi stessi, a ripensare il mondo, a ripensare il nostro rapporto con gli altri. Allora, nel caso di Anne Arendt, ovviamente, l'evento è un evento particolare, era l'evento della Shoah. Anne Arendt dice, io non posso pensare se non a partire da questa catastrofe, perché letteralmente Shoah significa catastrofe. Nel mio caso, la mia catastrofe personale è stata proprio l'anoressia, io non potevo più pensare indipendentemente da quello che mi aveva attraversato. E a partire da lì ho capito poi anche che la filosofia dava proprio strumenti diversi. Dava spirito critico, non serviva per incassonare il reale all'interno di un sistema, ma dava strumenti per prendere distanza rispetto a un certo quadro, a una certa fotografia della realtà. E poi al tempo stesso dava anche strumenti per cercare di entrare in contatto con se stessi da questo punto di vista. Per me non c'è poi una grande distanza tra la filosofia e la psicanalisi, anche se io ho riscoperto la filosofia passando attraverso la psicanalisi. Quello che è importante è tutto ciò che ci permette di riconoscerci. Riconoscerci. Allora prima dicevo è importante essere riconosciuti per quello che siamo, dai nostri genitori, dai nostri insegnanti. Poi c'è bisogno di un passaggio ulteriore, cioè dopo essere stati riconosciuti o se non si è stati riconosciuti dobbiamo riconoscerci. Ora l'importanza della filosofia è proprio quella, darci gli strumenti che ci permettano, anche se non siamo stati riconosciuti, di imparare a riconoscerci. Quindi strumenti critici, ma anche strumenti empatici. Da questo punto di vista la filosofia non è solo uno strumento razionale, è anche ciò che ci permette di inquadrare, di capire e di vivere quindi meglio la condizione umana con le sue fratture, con i suoi limiti, con tutte quelle differenze che la filosofia ci può insegnare a pensare, a esplicitare, a spiegare e a spiegarci anche a noi stessi. Il problema della fiducia oggi è un problema centrale per vari motivi. Intanto perché siamo in una società che da un lato dà delle norme di perfezione, ma dall'altro lato ha proprio un cancro legato a una sfiducia profonda e radicale. Anche se poi le due cose in realtà non sono così diverse e sganciate l'una dall'altra. E' proprio forse perché abbiamo un ideale di perfezione in cui dobbiamo essere autosufficienti, dovremmo essere autosufficienti, che poi siamo sfiduciati, non abbiamo fiducia negli altri perché la fiducia negli altri implica una forma di dipendenza. Allora, come fare in questo clima di sfiducia, sapendo che non possiamo non dipendere dagli altri, ma al tempo stesso questa dipendenza non può essere assoluta, perché se poi viene meno l'appoggio degli altri rischiamo di sbriciolarci. Che può sembrare un tema lontano rispetto a quello dell'anoressia come sintomo, ma in realtà è vicinissimo. Tanto è vero che non credo che sia un caso che io abbia fatto della fiducia a uno dei temi dei miei libri. Quindi, siccome, come ho spiegato prima, per me poi la filosofia è stato un modo di pensare a partire dalla catastrofe mia personale, spiega anche per quale motivo a un certo punto io abbia voluto lavorare sul tema della fiducia. Allora, che cos'è la fiducia? La fiducia è una scommessa, è un salto nel buio. Per poter avere fiducia, per poter dare la mia fiducia a qualcuno, io devo poter scommettere nella possibilità che questa persona onore la mia fiducia. sia all'altezza della fiducia che io do, senza averne la certezza, perché naturalmente, come sappiamo tutti, sono proprio coloro in cui noi abbiamo fiducia che ci possono tradire. Se noi non avessimo fiducia in una persona, questa persona potrebbe al limite deluderci, ma non ci potrebbe tradire. Tradimento e fiducia vanno di pari passo. Però noi abbiamo bisogno di questa scommessa, anche se è una scommessa che possiamo talvolta perdere, perché senza questa scommessa di fiducia, noi non possiamo costruire niente, non possiamo vivere da soli. Abbiamo bisogno di creare un rapporto con una persona per costruire un legame, per costruire una relazione, anche per lavorare insieme, anche se naturalmente, a partire dal momento in cui diamo la nostra fiducia, entriamo automaticamente in un rapporto di dipendenza e di vulnerabilità. Cosa vuol dire dipendere dagli altri? Basti pensare alle relazioni di amore. Se io amo una persona, io non posso non dipendere dai gesti di questa persona. Io non posso non dipendere dalle parole. Quando io torno a casa da mio marito, io mi aspetto un certo riconoscimento da lui, perché dipendo anche in parte da come lui mi guarda, da come lui risponde alle mie domande e così via. Però questa dipendenza, ed è questo secondo me poi che è centrale, non può e non deve essere totale, perché se è vero che parte del mio benessere, che è un'altra parola, la moda, dipende da come il mio marito, come la persona che io amo e così via, mi risponde, mi guarda e così via, tutto non può dipendere da questa persona. A un certo punto, parlando dell'amore, nel libro Volevo essere una farfalla, spiegavo che quello che avevo capito dopo la mia lunghissima analisi e dopo il nuovo approccio alla filosofia, è quello che consiste a dire che io oggi so che è vero che se perdo l'amore della persona che amo, perdo tutto, però so anche che perdo tutto tranne me stessa. Cosa vuol dire che perdo tutto tranne me stessa? Vuol dire che accanto a questa fiducia e dipendenza, che io ho, regalo alla persona che amo o ai miei amici e che mi mette in uno stato di dipendenza, c'è anche una base, che si può chiamare fiducia in me, che mi permetterebbe di sopravvivere di fronte al tradimento. Allora, che cos'è questa base? Se ne parla tantissimo, si parla di self-esteem, self-confidence, ci sono tutta una serie di ricette. No, non c'entra niente. Non è quella idea che consisterebbe a credere che io non ho bisogno di niente o di nessuno. Questa è la patologia che porta poi all'anoressia. No, è semplicemente la consapevolezza che il mio valore in quanto essere umano, in quanto persona, non dipende dallo sguardo altrui, non dipende da quelle famose parole che io attendo quando torno a casa da mio marito e che possono non esserci e che possono sparire da un momento all'altro. Allora, io perdo qualcosa di importante se perdo e vengo tradita, però perdo tutto tranne me stessa, cioè la coscienza del valore che è il mio. In fondo, quando si parla di dignità, dignità è una parola di cui si sente parlare tanto oggi. Dignità della persona. Allora, la dignità è il valore intrinseco di ognuno di noi. Che cos'è la fiducia in sé? È la coscienza di questa dignità. Io sono degna perché valgo, indipendentemente da quello che gli altri possono pensare di me e indipendentemente da quello che gli altri possono farmi. Quando io la prima volta sono stata diagnosticata come anoressica, era stata una psichiatra che mi disse se lei è anoressica. Io per tantissimo tempo ho cercato di capire cosa volessi dire, oltre ad essere stata quasi schiaffeggiata da questa parola, anche perché non corrispondevo dal mio punto di vista. Per me le anoressiche non avrebbero dovuto avere fame, mentre io ero tormentata dalla fame. Per me le anoressiche erano perfette, mentre io ero lontanissima dalla perfezione. in realtà il sintomo era esattamente quello, ma io non ero stata riconosciuta per l'ennesima volta per quella che ero. Allora, c'è qualcosa di comune, c'è un grido silenzioso, utilizziamo il corpo per dire qualcosa, ma il qualcosa che si dice è sempre soggettivo, fino a che non si uscirà da questa gabbia che vuole necessariamente mettere tutte le anoressiche, tutte le bulimiche all'interno di un schema preciso probabilmente non avremo nemmeno gli strumenti necessari e efficaci per insegnare a chi non è stata riconosciuta o a chi non è stato riconosciuto come si fa a riconoscersi e ad accettarsi per come si è, perché può sembrare semplice, in realtà è difficilissimo, ma il problema è questo. C'è un'ultima cosa che vorrei dire a tutti i partecipanti di Pensa Differente, e tra l'altro mi dispiace moltissimo non essere tra di voi oggi, è quello di prendere forse alla lettera proprio l'espressione Pensa Differente. In fondo il problema più grosso con il quale abbiamo a che vedere tutti, con il quale ci confrontiamo tutti, è proprio quello della difficoltà di poter pensare in maniera diversa rispetto a come si pensa. C'è una tendenza all'omologazione, una tendenza a pensare che ci si debba a tutti comportare nello stesso modo, a pensare tutti la stessa cosa. Pensare in maniera diversa è difficile e ci vuole tantissimo coraggio, perché nonostante quanto si pensi è estremamente difficile accettarsi nelle proprie differenze rispetto a quello che si dovrebbe essere, a quello che si dovrebbe fare, accettarsi con i propri limiti, per cui forse l'ultimo messaggio che mi piacerebbe inviarvi oggi e che continuo a inviare anche a me stessa è quello accettatevi per come siete perché è l'unico modo per vivere in maniera umana, non pienamente umana. Ci limitiamo anche semplicemente a vivere in maniera umana la nostra vita che consiste a riconoscerci per come siamo con le nostre fratture e con le nostre fragilità. E poi mi piacerebbe anche che per tutti coloro che sono genitori si rendessero conto che ciò di cui tutti i bambini e quindi tutti noi abbiamo veramente bisogno è quello di essere riconosciuti. I bambini non hanno bisogno di giocattoli, di studio e di tante altre cose. I bambini hanno soprattutto bisogno che il papà e la mamma siano coscienti del fatto che valgono e sono importanti per come sono e non per quello che potrebbero essere o dovrebbero fare.